direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 26 settembre il jackpot ha raggiunto la cifra di 43 milioni 641 mila 852 euro il più alto al mondo le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 98 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 4 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 38 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 88 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 16 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 86 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 70 dopo i sei numeri che assegnano jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly e vi ricordo che indovinando questo numero assieme a cinque numeri dell'assessina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 61 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 4 38 88 16 86 70 numero jolly 61 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super in allotto fino a 100 volte e preme anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna elettronica pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 46 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 98 in ordine crescente 4 16 38 70 86 88 numero jolly 61 superstar 46 l'estrazione di oggi sabato 26 settembre termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate e ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 43 milioni 600 mila euro il più alto al mondo è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 98 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del supernalotto assegna 415.125 vincite e vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 43 milioni 600 mila euro il più alto al mondo sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di supernalotto non è stato realizzato ed il jackpot cresce ancora per arrivare a 44 milioni 600 mila euro scopriamo adesso insieme tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 6 e vincono 33.510 euro ciascuno i 4 sono 563 e vincono 363 euro ciascuno i 3 sono 22.198 e vincono 27 euro ciascuno i 2 sono 356.236 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 14.899 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 6 e vincono 36.317 euro ciascuno i 3 stella sono 129 e vincono 2775 euro ciascuno 100 euro vanno ai 1.614 2 stella 10 euro vanno ai 10.634 1 stella e 5 euro vanno ai 23.739 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 29 settembre giocheremo per un jackpot di 44.600.000 euro arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti